Ci troviamo al Comunale dei Casoli per la gara di recupero del campionato regionale categoria Juniores, Casolana, Calcio, Virtus Castelfrentano. La Virtus Castelfrentano con la classica maglia giallorossa mentre la Casolana con la blu con risvolti gialli e pantaloncini bianchi. Qua piove a Casoli, la gara inizierà tra qualche minuto dopo l'entrata in campo, sono alle 18.30, piove, tira un po' di vento e fa freschetto. Ecco l'entrata in campo, il direttore di gara, il signor Ricucci della sezione Aia di Chieti. Ecco si schierano tutti al centro campo. Ecco c'è i saluti, andate alla panchina. E la prossima porto pure un'altra coperta che mi è rimasta, era ancora bagnata. E' nata la coperta eh, l'abbò fatta a torno eh. Bucci! Ok, è nata a torno. Occhio raga eh. Ecco il fisco d'inizio, alle prossime riprese. Qua da Casoli. C'è una coperta bagnata. Grazie a tutti.